Ancora droga nei pressi di un noto bar della zona Campo di Marte di Arezzo, dopo l'eclatante operazione della polizia dell'anno scorso che aveva anche filmato l'evidente giro di stupefacenti che c'era nella zona. Questa volta la perquisizione all'interno del bar, da parte dei carabinieri, ha portato alla scoperta di 37 grammi di hashish e 3 di eroina che erano stati abilmente occultati, già divisi in dosi. Nei confronti del titolare, un cittadino pakistano, verrà proposta la chiusura dell'attività commerciale, mentre lo stupefacente sarà trasmesso al laboratorio analisi di Firenze. Nel corso della stessa operazione, eseguita dai militari del nucleo operativo radiomobile insieme ai colleghi della stazione di Subbiano e con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga nucleo di Firenze, sono stati denunciati per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti quattro cittadini extracomunitari perché trovati in possesso di 17 grammi di hashish e circa 90 euro somma ritenuta provento di spaccio. Le perquisizioni sono state eseguite anche in un edificio in costruzione di via Arno.